Chiedete al Signore il coraggio apostolico e non fate della vita cristiana un museo di ricordi. È l'esortazione che Papa Francesco ha espresso durante l'omelia della messa celebrata nella cappella della Casa Santa Marta. A tutti il Pontefice ha chiesto di pregare con costanza per lasciare spazio allo Spirito Santo che ci fa capire la verità, ci fa conoscere la voce di Gesù. Senza preghiera non c'è posto per lo Spirito. Chiedere a Dio ci mandi questo donno. Signore, dacci lo Spirito Santo perché possiamo discernere in ogni tempo cosa dobbiamo fare? Che non è sempre lo stesso. Il messaggio è lo stesso. Ma la Chiesa va avanti. La Chiesa va avanti con queste sorpresse, con queste novità dello Spirito Santo. Ma bisogna discernerle. E per discernerle bisogna pregare, chiedere questa grazia. Barnava era pieno dello Spirito Santo e ha capito subito. Pietro ha visto quello e diceva, ma chi sono io per negare qui il Battessimo? E lui, chi non ci fa sbagliare. Ma Padre, perché mettersi in tanti problemi? Ma facciamo la cosa come l'abbiamo fatto sempre, che siamo più sicuri. e. ok